Si terranno domani, martedì 12 luglio alle 16.30, i funerali di Davide e Fabio Zandri. Papa e figlio rispettivamente di 44 e 7 anni e mezzo, morti annegati sabato mattina, mentre facevano un bagno nelle acque agitate del mare di Gimarra di Fano, davanti alla spiaggia dei Fiori. I funerali si terranno nella chiesa Santa Croce di Calcinelli, dove la famiglia Zandri risiede. Un comune, quello di Coglia al Metauro, che per la giornata ha proclamato lutto cittadino al pari delle comune di terre roveresche. Davide Zandri è infatti nato e cresciuto a Rupoli di Orciano, prima di trasferirsi a vivere a Calcinelli. Nell'occasione saranno listate a lutto le bandiere esposte sui palazzi comunali e annullate ogni manifestazione pubblica o attività ludiche previste nella giornata di martedì. Anche gli uffici comunali osserveranno un minuto di raccoglimento alle 16.30. E anche Fano ieri ha silenziato la cerimonia del patrono San Paterniano per una tragedia immane che ha distrutto una famiglia e sconquassato l'animo di un'intera provincia profondamente toccata dall'immisurabile dolore di Stefania Carpignoli, mamma e moglie di 43 anni, che dalla riva agitata del mare di Fano ha visto morire il marito, sparire fatalmente il figlio Fabio fra le onde, per poi recuperare, grazie ai soccorsi, l'altro figlio Luca, di 12 anni, poi ricoverato al Salesi di Ancona e per fortuna ora fuori pericolo. Lo stesso dolore del quindicenne, primo dei tre figli della coppia, rimasto a casa in quella maledetta mattina del 9 luglio, in cui il mare mosso di Fano è stato fatale. È una tragedia che si porta dietro i tanti sé e i ma del bagno in un mare infido e prima dell'orario di entrata in funzione dei servizi di salvataggio. Una serie di interrogativi che ora cedono lo spazio ad un immenso dolore, al quale si sta accompagnando la moltiplicazione di gesti di solidarietà e raccolta fondi per dare un granello di conforto ad una famiglia inconsolabile.